Il consiglio del primo, lo staff tecnico e compagno di squadra saluta l'autatleta Ciro Conte chiamato lontano da su un sereno per continui di lavoro. Questa sera eseguirà la sua ultima gara con la maglia di argomento. Ringraziamo per quanto fatto in tutti questi anni in questa società. Vi porto una lunga terza e un voto in Bocca Bucca. Applausi. 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 L'Ovato Alvista San Sereno, Olimpica Cernota e il primo quarto. L'Ovato Alvista San Sereno 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 L'Ovato Alvato 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.